Sono Roberto Bianchi, la nostra azienda si chiama Val delle Corti a Rada in Chianti e sono il titolare. La nostra azienda è una piccola azienda familiare creata nel 1974 da mio padre. Mio padre era un autodidatta completo, faceva un mestiere completamente diverso. Tutto quello l'ha imparato, l'ha imparato appunto leggendo o dai vignaioli che ci circondavano ancora con molta modestia e molta umiltà e molta capacità di ascolto e anche tanti errori, ha imparato piano piano a fare questo mestiere. Non siamo di tradizione viticoltori, lo siamo diventati per passione. In quegli anni e in quelle modalità aveva del folle quasi. Rada era ai confini dell'impero, Rada era un territorio molto colpito dalla fuga delle campagne, dalla crisi della mezzadria e i poderi erano abbandonati. Tranne qualche luminosa eccezione, era un territorio proprio ai margini, benché centrale nel Chianti Classico, geograficamente. Questo esperimento fu condotto con passione, grinta, sacrifici molto forti e da allora, quest'anno sono 50 anni, quindi il compleanno nostro è di 50, siamo più giovani, da allora la nostra famiglia vive a Rada e fa vino.